Ciao cari spettatori e benvenuti all'oroscopo di oggi. Come sarà l'oroscopo per te oggi e cosa possiamo aspettarci oggi? Siete pronti per scoprire cosa stelle e pianeti hanno in servo per voi? Scopriamo insieme le previsioni di questa giornata su amore, lavoro e fortuna per ogni segno zodiacale. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi per ogni segno zodiacale. Segno Ariete Ariete, in questo giorno, la tua leadership brillerà nelle tue azioni. La tua natura energica e determinata ti dota della capacità di guidare con fiducia e determinazione. Assumi un ruolo di leadership con sicurezza, ispira coloro che ti circondano e raggiungi risultati notevoli. Approfitta delle opportunità che derivano dalla leadership e lascia emergere il leader che è dentro di te. Ariete, sei fortunato oggi, quindi rilassati e allentando un po' di autocontrollo. Amore, auguri per un amore fortunato. Quando sei con la tua metà, fai più attività insieme e interagisci di più. Carriera, ci saranno progressi, quindi sfrutta le tue abilità. Il miglioramento delle tue competenze attraverso la formazione sarà vantaggioso per la tua futura carriera. Fortuna, le prospettive finanziarie sono buone. Puoi guadagnare di più seguendo i passi giusti, almeno non avrai rimpianti se lavori sodo. Salute, la tua salute è accettabile. Fai più esercizio per i muscoli e le articolazioni. Segno Toro Toro, oggi ti offre continue opportunità finanziarie. La tua natura pratica e determinata ti aiuta a crescere finanziariamente e a prosperare costantemente. Concentrati sugli obiettivi finanziari, sugli investimenti e sullo sviluppo della tua carriera, poiché continuerai a vedere abbondanza e stabilità. Goditi il comfort e la sicurezza che provengono dalla tua situazione finanziaria. Carriera, stai andando bene nel lavoro, hai l'opportunità di incontrare buoni partner e acquisire preziose esperienze. Amore, auguriamo a te e al tuo partner molta fortuna. La comprensione reciproca è alta, il che migliorerà notevolmente la tua efficacia lavorativa insieme. Fortuna, non male, per quanto riguarda gli investimenti e la gestione finanziaria, potresti considerare un'offerta di collaborazione se ne hai una. Salute, la tua salute è buona, e il tuo stato d'animo è positivo. Segno Gemelli Gemelli, la giornata è caratterizzata da una mente acuta e da un pensiero creativo. La tua curiosità e la tua capacità di adattamento ti rendono eccezionale nel risolvere problemi e nel formulare idee creative. Partecipa a compiti che richiedono l'agilità mentale, impegnati in discussioni profonde e scopri nuovi concetti. Sfrutta la forza della tua mente acuta e del pensiero creativo, ciò porterà a una profonda comprensione e a soluzioni creative. Carriera, nella vita e nel lavoro, non dovresti trascurare i dettagli, l'accumulo è la chiave. Amore, la tua vita sentimentale è nella norma. Se vuoi che gli altri ti capiscano, non sottovalutare la comunicazione. Se non lo dici, chi lo saprà? Fortuna, alquanto debole, dovresti cambiare le abitudini di spesa superflua nella vita quotidiana e pianificare una distribuzione dei fondi più sensata. Salute, ci sono alcune fragilità, quindi prenditi cura della tua colonna vertebrale. Segno Cancro Cancro Oggi è il momento di rafforzare i legami familiari per un'armonia duratura. La tua natura nutriente e compassionevole ti guida nell'instaurare relazioni amorevoli con i tuoi cari. Dedica del tempo di qualità ai membri della tua famiglia, esprimi il tuo amore e crea momenti preziosi. Apprezza il calore e l'affetto delle tue relazioni familiari, sapendo che sono fonte di gioia e supporto. Carriera Potresti affrontare delle sfide nella vita e nel lavoro, quindi è meglio cercare aiuto da persone esperte. Emozioni L'esperienza emotiva è normale. Per farti capire dagli altri, la comunicazione è essenziale. Se non lo dici, chi lo sa? Fortuna Sul lato degli investimenti e della gestione finanziaria, è meglio ascoltare i pareri degli esperti e pianificare una distribuzione equa dei fondi. Salute La tua salute è normale, basta fare attenzione a mantenere uno stile di vita sano. Segno Leone Leone, l'attività creativa che persegui raggiungerà il suo apice oggi. La tua energia affascinante e la ricca immaginazione spingeranno i tuoi sforzi artistici. Approfondisci i tuoi progetti creativi, condividi il tuo talento e fai brillare la tua creatività. Goditi la gioia di esprimerti audacemente e sinceramente attraverso il tuo lavoro creativo, perché la passione e l'ispirazione ti rendono unico. Il Leone è in buona forma, quindi è meglio collaborare con gli altri sia sul lavoro che nella vita. Amore Auguri per l'amore fortunato, dovresti essere in sintonia con la famiglia e gli amici del tuo partner saranno più propensi ad amarti. Carriera Successo Il lavoro con molte persone influenti richiederà spirito di squadra per ottenere progetti di successo. Fortuna, per quanto riguarda gli investimenti e la gestione finanziaria, potresti prendere spunto da come gli altri scelgono i progetti. Salute, buona salute. Segno Vergine Vergine, la tua capacità innata di razionalizzare la produttività porterà risultati notevoli. Oggi, avvicinati ai tuoi compiti con determinazione e pianifica in modo metodico. Affronta i problemi con la tua natura pratica e orientata ai dettagli, superando le sfide in modo efficiente. Goditi il senso di realizzazione derivante dalla tua abilità nel risolvere le sfide con successo. La Vergine ha una buona dose di fortuna, quindi mantieni il ritmo nel lavoro e nella vita senza preoccupazioni eccessive. Amore, auguri per un'emozionale buona sorte. Quando si è insieme, è importante ascoltarsi reciprocamente, affrontare attivamente le discussioni e risolvere i problemi. Carriera, le situazioni difficili sono rare. Se incontri delle difficoltà, cerca di negoziare con il capo e i clienti. Fortuna, la tua fortuna è buona, c'è una buona probabilità di ricevere aiuto dalla famiglia e dagli amici nella vita quotidiana. Salute, leggermente stanca, presta attenzione all'esercizio fisico e all'alimentazione adeguata. Segno bilancia Bilancia, oggi le tue relazioni diventeranno più armoniose. Il senso di equilibrio e la tua innata capacità di diplomazia guideranno le tue interazioni con le persone care. Focalizzati sulla comunicazione aperta e armoniosa, promuovendo la comprensione e il compromesso. La fiducia e l'equilibrio nelle tue relazioni sono la fonte di una bellezza duratura, quindi continua a coltivarli. La bilancia è un po' più brillante. Ti piace fare le cose passo dopo passo e non sopporti l'instabilità. Amore, la tua situazione amorosa è molto positiva, tu e il tuo partner siete molto compatibili, entrambi potete negoziare sul lavoro insieme e avrete meno conflitti. Carriera, per ottenere buoni risultati sul lavoro, è necessario collaborare con persone talentuose e ben collegate, imparando a sfruttare il loro talento più velocemente che lavorare duramente. Fortuna, buona, c'è una forte probabilità di ricevere aiuto dalla famiglia e dagli amici nella vita quotidiana. Salute, un po' è stanca, fai attenzione all'esercizio fisico e all'alimentazione adeguata. Segno scorpione Scorpione, oggi il tuo viaggio alla scoperta delle profonde verità personali diventerà più intenso. La tua natura appassionata e profonda ti consente di esplorare gli aspetti nascosti di te stesso. Immergiti nell'autoriflessione, nella guarigione personale e nella pratica spirituale per svelare intuizioni profonde. Cattura il potere trasformativo della consapevolezza mentre continui il tuo percorso di crescita interiore e autoscoperta. Lo scorpione è un po' più debole. Dovresti prestare maggiore attenzione all'ambiente circostante. Se avverti qualcosa di sbagliato, è meglio pianificare il prima possibile. Emozioni, a un livello medio, il giudizio degli altri non è così importante quanto le tue emozioni, cerca di affrontarle con calma, senza preoccuparti troppo. Carriera Il lavoro potrebbe non essere senza ostacoli, ma se vuoi fare la differenza, devi essere disposto a sopportare la solitudine e superare le sfide. Il tempo cambierà tutto, quindi non essere troppo pessimista. Fortuna Segno Sagittario Sagittario, oggi sei incoraggiato ad esplorare entusiasticamente nuovi orizzonti e opportunità intriganti. L'energia libera e ottimistica ti spingerà verso avventure e scoperte. Cerca sfide affascinanti, immergiti in emozionanti viaggi e avvicinati con entusiasmo a ciò che non sai ancora. Goditi l'emozione delle nuove avventure, sapendo che il tuo spirito coraggioso trasforma ogni nuova esperienza in un'opportunità di crescita ed eccitazione. Il Sagittario dovrebbe limitare l'autocritica in vita e nel lavoro e non pensarci troppo. Emozioni La tua fortuna emotiva è debole, quindi è meglio comunicare apertamente con gli altri su ciò che non ti soddisfa al più presto, pensare a questo è inutile. Carriera Lasciare che la paura o la mancanza di fiducia influiscano sul tuo lavoro potrebbe far stentare la tua attività commerciale. Hai bisogno di avere una prospettiva corretta sulle sfide e le complicazioni tra le persone. Fortuna Non pensare troppo agli investimenti e alla gestione finanziaria, fai ciò che è necessario dopo una riflessione adeguata. Salute Potresti soffrire di insonnia, quindi fai attenzione al benessere fisico e mentale. Segno Capricorno Capricorno Oggi la tua ambizione professionale verrà messa in evidenza. La tua natura disciplinata e determinata ti aiuterà a ottenere riconoscimenti e progressi nella tua carriera. Continua a perseguire i tuoi obiettivi professionali con dedizione e integrità. Apprezza le ricompense e le opportunità che derivano dal riconoscimento del tuo duro lavoro e sii consapevole che la tua ascesa professionale è stabile e promettente. Capricorno Non male, per quanto riguarda gli investimenti e la gestione finanziaria, devi essere paziente e non aspettarti successi immediati. Salute, tutto nella norma, cerca di riposarti meglio. Segno Acquario Acquario, oggi sei segnato da un flusso agevole di idee e soluzioni creative. La tua natura visionaria e unica brilla nel trovare risposte originali alle sfide. Condividi i tuoi pensieri creativi e innovativi, e cerca approcci unici per risolvere problemi. Abbraccia il tuo pensiero progressivo, poiché stimola la creatività e promuove cambiamenti positivi nei tuoi sforzi, sapendo che le tue soluzioni innovative si verificheranno agevolmente. L'acquario deve affrontare emozioni negative e cambiamenti d'umore, evitando di diventare troppo scoraggiato o eccitato. Amore, alcuni comportamenti del tuo partner potrebbero risultare fastidiosi, entrambi dovreste comunicare meglio e non arrabbiarvi troppo. Carriera Il lavoro non è troppo impegnativo, hai ancora tempo per prepararti per le sfide future. Se ti senti stanco, concediti una pausa. Fortuna, piuttosto negativa, per quanto riguarda gli investimenti e la gestione finanziaria, mantieni la stabilità. Se non ci sono opportunità favorevoli al momento, non rischiare troppo. Salute Presta attenzione alla tua salute, l'ira eccessiva può danneggiare il fegato. Segno pesci Pesci Il tuo sviluppo spirituale e la tua tranquillità interiore continuano a espandersi oggi. La tua natura empatica e intuitiva si rafforza mentre rifletti e connetti con il tuo lato spirituale. Partecipa alla meditazione, esprimi l'arte o sperimenta la spiritualità e confida nell'intuizione e nella serenità che derivano dal tuo percorso spirituale. Sappi che il tuo profondo legame con il mondo spirituale continuerà a crescere, offrendoti guida e pace interiore. I pesci dovrebbero fare le cose a modo loro, senza lasciare che gli altri li spingano. Amore Normalmente vuoi essere in armonia con il tuo partner, entrambi non amate i conflitti. Carriera Va bene, il lavoro non è troppo impegnativo. Se ti senti stanco, prenditi un po' di riposo. Fortuna, per quanto riguarda gli investimenti e la gestione finanziaria, mantieni la tua posizione. Se non ci sono opportunità favorevoli al momento, non prendere rischi. Salute, riposa di più e evita di stare alzato fino a tardi, è benefico per il tuo corpo.